ultimamente pochi giorni fa c'è stato un evento di sony che si chiama chess che non è una cosa riferita al bagno a quanto pare tra vari progetti che hanno fatto vedere tra cui schermi della televisione trasparenti che si vedono uguale oppure una macchina che si può telecomandare con il duo sense cose da pazzi ragazzi hanno finalmente annunciato qualche cosa di video ludico ma no come vi aspettavate voi a quanto pare tramite vari annunci riguardanti videogiochi barra serie tv hanno ufficializzato che sta in sviluppo questa canonica serie tv riguardante god of war l'avevano già annunciato qualche anno fa e non si non si seppe più nulla e a quanto pare stanno facendo un pensiero non riguardante queste novità ok quindi cosa aspettarci di questa serie di god of war beh non calcolate niente di particolare ragazzi è una serie tv che parla della mitologia non rena quindi inizia già dal god of war del 2018 forse ci saranno dei flashback riguardanti al passato può darsi di sì può darsi di no però comunque è una serie canonica ancora non è stato scelto l'attore principale della serie tv alcuni hanno optato veramente come the rock caso strano hanno optato pure per triple h tanti attori jason mamma alligolo che ha fatto acqua man scusate non so i nomi vabbè comunque ancora non si sa nulla sperando di vedere entro quest'anno un trailer e spero che scelgano bene l'attore perché ultimamente e dico ultimamente stanno capitando attori beceri